Passeggiando per Agropoli Abbiamo incontrato Massimo Di Cataldo Che è qui in visita nel Cilento E questa sera si trova proprio ad Agropoli Ciao Massimo innanzitutto E grazie per essere qui ad Agropoli Allora hai visitato tanti posti Qui ad Agropoli Però qual è quello che ti è piaciuto di più? Beh in assoluto Questo castello non a caso mi trovo qui ora E si gode di un panorama Meraviglioso E poi specialmente Per chi fa musica Bisogna anche di ispirazione Devo dire che tutto questo È molto molto bello E riempie davvero L'animo di belle sensazioni Una cittadina stupenda Molto curata Ho fatto una bella passeggiata anche al porto Quest'oggi Sono arrivato fin giù Dove c'è Una bellissima madonna Che guarda sul mare E devo dire che ho incontrato anche tante persone Piacevoli Simpatiche Tutti molto Come dire Cordiali Cordiali Generosi Alla mano Quindi questo fa molto piacere Specialmente in un periodo come questo Nel quale c'è stata molta chiusura Di stacco Distanziamento Eccetera Ritrovare finalmente un po' di umanità Ecco È una cosa che È piacevole davvero Quindi ritornerai ad Agropoli? Con molto piacere Spero anche in veste professionale Però anche come turista Diciamo così È senz'altro Un luogo dove Mi piace stare Allora grazie Massimo Un saluto allora A tutti gli ascoltatori E ai lettori di Info Cilento Ciao Un abbraccio forte a tutti voi Ciao Ciao